ciao ragazzi buongiorno buona domenica buona domenica a tutti allora volevo fare un video prima della live reaction di oggi che oggi sono in live in live reaction di juventus benevento vinceremo stavolta con benevento ma comunque volevo fare un video di questa situazione che si è creata fra gli interisti juventini milanisti campionato falsato si campionato falsato no campionato covici campionato covido il campionato del tampone tamponi d'italia eccetera 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 allora allora mi dico la mia dicono mia partiamo dal presupposto che io nel calcio non ci ho mai visto la malafede no ci ho visto gli errori ci ho visto errori grossolani qualche volta ti portavano a pensare alla malafede che sia per che era per la juve che era per l'inter che era per il milan perché ci sono stati anche lì è perché questi fanni santarallini ma chi è senza peccato scagli la prima pietra allora l'anno scorso quando è cominciata la pandemia la pandemia mi ricordo che c'era questa fortissima discussione sulla partita juventus inter juventus inter campo aperto si campo aperto no ha aperto chiuso chiuso aperto io fece anche un video giochiamo a porta aperte porte chiuse porta aperte porte chiuse la juve voleva giocare a porta aperte conte l'inter volevano giocare a porte chiuse alla fine vinse l'inter nonostante che tutti gli interisti poi anche l'asso di roma si mise in mezzo in questa disputa juventini ha dato del mafioso ad agnelli perché lui comandava la lega calcio di tutto e di più avete vomitato addosso la partita si fece a porte chiuse l'inter prese due banane anche a porte chiuse e a casa ma questo non mi interessa mi interessa l'accanimento che ci fu contro la juve perché comandava nella lega calcio allora siccome dall'anno scorso a quest'anno non è cambiato nulla nella lega calcio gli uomini sono gli stessi adesso mi dovete dire come faceva la juve a comandare la lega calcio se quest'anno la juve gliele hanno fatte di tutti i colori sono sempre gli stessi uomini sempre agnelli e ancora vivo non è morto sono sempre gli stessi uomini allora la partita con la lazio la lazio gioca con dei positivi la juventus pareggia la partita per colpa sua perché la vinceva 1 a 0 poi di bala fece quella quella cagata lì al novantesimo al novantaduesimo e pareggiamo la partita però nella lazio giocavano dei positivi che poi sono stati sono stati beccati e la lega calcio non fa nulla ci sono partite su partite che si giocano con con squadre che hanno lasciato a casa 4 5 6 8 come il genova giocatori positivi al covido ovviamente c'era un protocollo da rispettare e andava rispettato non ti potevi rifiutare finché ci avevi 13 giocatori disponibili tu sei obbligato a presentarti in campo eccetera eccetera e così è stato le squadre che ci hanno rimesso dei punti no tipo il genova il torino adesso un po tutti diciamo anche la juventus ha avuto tanti positivi la partita col milan ci aveva sia il milan se non sbaglio erano 7 8 tra le due squadre o forse qualcuno in più le partite si dovevano disputare arriva la partita con il napoli il napoli perché c'ha due positivi non parte non parte per torino la lega calcio lì si espone dice no la partita si gioca il napoli non si presenta perché si è messa di mezzo l'asl e io ricordo allora forse per la prima volta quella è una volta storica per la prima volta tutti i tifosi di calcio hanno dato ragione alla juve e hanno massacrato il napoli perché giustamente la partita si doveva fare e la lega calcio disse la partita si fa infatti mandò l'arbitro torino eccetera eccetera il napoli non si presenta prende la partita 3 a 0 a tavolino con uno due punti penalizzazione poi si fa ricorso le solite cose l'italiana la partita adesso si deve rigiocare gli tolgono i punti penalizzazione quindi il napoli non viene punito e così si va avanti per tutto il campionato adesso l'inter perché a 3 barra 4 adesso c'è andanovic devrai d'ambrosio e vecino quattro giocatori positivi l'asl di milano interviene e la partita inter sassuolo non si gioca allora intanto voglio sapere dov'è la lega calcio perché quella volta con il napoli tutto sto casino con la lazio fanno le indagini poi scoprono che le squadre non hanno rispettato i protocolli anzi addirittura addirittura se noi poveri cittadini usciamo che abbiamo tre linee di febbre ci mettono in galera questi qua invece hanno giocato ed erano positivi al coronavirus non gli fanno nulla a noi invece ci massacrano però la lega calcio lì fa presto a muovere tutta la merda che deve muovere adesso sull'inter la lega calcio assente accetta la richiesta dell'asl accetta tutto e l'inter non gioca ma fin qua fin qua io posso capire che viviamo in un in un paese l'italia un paese corrotto in un paese che fa schifo in un paese che guarda il più pulito c'è la rogna il più pulito c'è la rogna e non mi non mi scandalizzo neanche di tanto perché io sono altre le cose che mi scandalizzano queste cose non mi scandalizzano perché nel calcio c'è il marciume va bene ma non ce l'ha solo la juve il marciume capito non è solo agnelli che c'è il marciume sono tutte le squadre che ognuno tira l'acqua al suo volino e parlo delle squadre grosse delle squadre importanti dei presenti importanti no però mi scanda cioè mi mi non mi scandalizza mi mi torna mi torna strano sentire tutti praticamente non il 90 per cento degli youtuber no dei tifosi però adesso parlo youtube perché siamo su youtube che dicono siete patetici a come campionato falsato perché dovete dire questo se l'asl di qua l'asl di là il coronavirus di qua il coronavirus di là i patetici siete voi siete tutta tutti una massa di pagliacci patetici perché o dite le cose come vandette oppure evitate perché voi ci fate pure dei video fate pure delle figure di merda voi dovete dire che questo è un campionato falsato ma non per colpa dell'inter non c'entra nulla l'inter è un campionato falsato perché in italia vige la disonestà punto punto tu non puoi non puoi non giocare inter sassuolo non puoi dopo tutto quello che abbiamo visto durante il campionato che qua ognuno ha fatto quel cazzo che voleva e squadre che hanno giocato senza otto nove titolari tu oggi non puoi non giocare era ieri non puoi non giocare inter sassuolo perché sennò falsi un campionato ma già era falsato da prima già era falsato da prima perché voi stessi youtuber avevate dato ragione nella partita juve napoli che il napoli non si è presentato avete dato ragione alla juve e avete fatto casino e adesso invece no non si fa casino adesso è tutto normale il contagio o il coronavirus siete patetici voi siete patetici voi questo è un campionato falsato perché voi avete detto che era falsato addirittura quello l'anno scorso che la juventus era in lega calcio e muoveva i fili faceva quel cazzo che ne aveva voglia siete ridicoli siete una massa di ridicoli voi dovete ammettere che questo è un campionato falsato chi l'ha falsato non mi interessa se sia stato marotta perché attenzione che marotta che dall'anno scorso è in pianta stabile alla lega calcio non c'è agnelli perché se ci fosse agnelli si sta si guarda io vi dico solo questo se era era agnelli che comandava i fili come voi avete detto voi compreso l'asso di roma ma questo non è un dissing io sto dicendo i fatti che sono successi se agnelli come l'anno scorso dicevate che muoveva i fili a noi ci bastavano che ci danno indietro i due punti con la lazio che c'era due giocatori della lazio che giocavano con il coronavirus quindi gli danno la partita persa e i tre punti con il napoli senza toccare tutto il resto noi abbiamo cinque punti più cinque punti quindi siamo a quattro cinque punti dall'inter di che cazzo state parlando ma perché appena c'è una cosa che che si parla contro l'inter ma contro l'inter per i fatti che avvengono voi dovete scandalizzarvi avete avuto gli aiuti arbitrali io io non parlo mai di arbitri e alla juventus quest'anno l'hanno bastonata agli arbitri e voi no 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 voi siete sempre i finti onesti puliti dovete smetterla dovete ammettere le cose bisogna ammettere le cose perché voi eravate quelli incazzati che avete dato ragione alla juve tutti tutti perché doveva vincere la partita 3 a 0 con il napoli invece adesso state ritrattando le cose questa è una pagliacciata questo è un campionato falsato falsato va bene prima della juve c'è il milan al milan è stato più penalizzato che l'inter che la juve sui sui su coronavirus la juventus non ha giocato quattro partito con ronaldo senza ronaldo perché c'era il coronavirus perché aveva il covi delit quadrato ma ce n'è ma ce n'è montagne ce n'è montagne allora attenzione perché d'ora in avanti d'ora in avanti se i presidenti accettano questo d'ora in avanti appena vengono fuori due positivi si mettono in tutte le asli questo campionato non arriva in fondo poi non lamentatevi poi non lamentatevi e non dite campionato falsato perché la juve non si è presentata lì perché il torino non si è presentato lì perché lì il milan non si è presentato lì perché allora dopo 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 è guerra dopo è guerra quindi io non ce l'ho con gli interisti perché non me ne frega un cazzo di voi proprio non mi interessa non mi interessa però smettetela di fare i finti onesti perché voi continuate a fare i finti onesti dove non dovete farlo dovete solo ammettere le cose sì il campionato è stato falsato dalla lega calcio da chi non lo so non mi interessa non sicuramente io almeno non penso alla malafede non penso che sia zang o marotta andare a fare il calendario però voi l'anno scorso dicevate questo voi voi dicevate questo quindi o ritirate quello che avete detto l'anno scorso oppure ammettete che questo è un campionato falsato e smettiamola di fare i pagliacci in quest'italia di merda perché qua questo paese è un paese corrotto sotto tutti tutti i livelli che sia nella politica che sia nel calcio che sia anche in tabaccheria già quando vai a in tabaccheria già c'è una truffa sotto bene dappertutto questo è il paese più schifoso e scandaloso del mondo e dovete ammetterlo o sono tutti disonesti tranne gli interisti ma per piacere ciao ragazzi ci vediamo oggi in live